Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto di essere qua, mi presento, sono Massimo Segre, sono presidente di Direkta e siamo qui con l'amministratore delegato di Direkta Ingegner Fabri e con l'amministratore delegato di Traderlink e nonché proprietario Mauro Protelli per illustrarvi le ultime novità di Direkta, il mio è solo un compito di introduzione però avrei piacere di dirvi solo due cose, cioè Direkta nasce e lo dice il nome stesso per mettere in collegamento diretto l'investitore privato con i mercati, questo è stata la nostra missione si chiama, non esisteva ancora la parola trading online, magari avremmo potuto chiamarci trading online avessimo saputo, invece ci siamo chiamati Direkta e questa era la nostra missione, lo è e direi molto presumibilmente lo sarà anche in futuro, cioè noi facciamo solo questo, non siamo un istituzionale non siamo una manoforte, non siamo un market maker, non facciamo consulenza, non diamo previsioni c'è una bella facca che abbiamo scritto proprio all'inizio della nostra avventura che ci siamo costituiti nel 95 e i primi clienti abbiamo cominciato a farle a marzo del 96 c'è una bella facca che diceva noi non siamo in grado di consigliarvi, se ci fosse qualcuno così bravo da azzeccare l'andamento di borsa non lavorerebbe da noi, poi adesso c'è Biocchi ma è un caso per cui quello che vi possiamo garantire, quello su cui con errori come sempre succede nella vita comunque continuiamo e proseguiamo e insistiamo ma soprattutto investiamo è quello di migliorare il trading online, migliorarlo nella rapidità, migliorarlo nell'ergonomia nella fruibilità, nel poter fare in poco tempo più cose, nel poter collegare sistemi di terzi sui nostri server, nel dare anche delle cose gratuitamente come andremo a dare adesso a tutta la comunità non soltanto ai nostri clienti, su cui abbiamo investito una cifra folle se devo dire che se soltanto potessimo avere il rendimento, la metà di quello che abbiamo investito credo che diventeremo milionari, ma lo facciamo nel senso che soprattutto l'ingegner fabbrica è un tecnologo, fa le cose per gusto, cioè fa le cose per il piacere di farle alcune volte costano poco e rendono tanto, altre volte costano tanto e non sappiamo cosa renderanno renderanno tantissimo dice lui, io dico che rendessero solo la metà di quello che sono costate in termini non solo di soldi ma di tempo cioè noi questo progetto all'inizio veniva chiamato trading room virtuali abbiamo avuto un'ispezione consob perché volevano capire che cosa volevamo dire per cui ora l'abbiamo declassato a una cosa molto più banale così evitiamo problemi regolamentari, ma il concetto rimane, rimarrà il medesimo quindi io vi auguro che quello che abbiamo da presentarvi vi possa interessare e quello che vi posso solo garantire è che noi faremo questo e cercheremmo di farlo bene, ma faremo solo questo, grazie Beh innanzitutto questo qui è anche un momento per ricordare, come diceva il dottor Segre il fatto che tutta questa avventura è nata nel 96 poi insieme nel 97 perché siamo conosciuti nel 97, ne è passata di acqua sotto i punti da quella volta noi eravamo una microbica, un'azienda, software house, magari Bravini, di Rimini poi c'è stato l'incontro con Directa e Directa ha creduto per prima in quello che era il Visual Trader che era il primo e unico software di un certo livello sviluppato in Italia tutto era americano, se non veniva dagli Stati Uniti non era bello, non era buono quindi facciamo subito praticamente questo accordo con Directa sia per lo sviluppo dei server di quotazioni su internet siamo stati primi in fondo insieme a rilasciare questo servizio Visual Trader siamo andati avanti grazie al supporto di Directa VT è diventato sicuramente il prodotto fatto in Italia più usato da italiani bisogna usare una server di questo tipo e in tutti questi anni abbiamo avuto il conforto anche di tutti i clienti di Directa nostri clienti e siamo molto contenti di sviluppi poi, se puoi tornare alla prima slide diciamo che in questo tempo, questo è un grafico di un banalissimo mese c'è questo mese di settembre, niente di più niente di meno da questo grafico si vede che ogni giorno, sabato e domenica compresi qualcuno, 30, 40, 30, 40 persone installano la nostra app tra l'altro senza neanche particolare promozione da parte nostra, evidentemente si è creato, come capita in questi ambienti il passaparola abbiamo ricevuto dei commenti che il mio imbarazzante è quasi zerato, giusto? non li paghiamo noi questi sono persone che hanno deciso di lasciare, non solo votare l'app che ha di solito 5 stelle, 4 stelle, 5 stelle ma anche lasciare dei commenti, devo dire, veramente belli qualche giorno fa siamo arrivati a quota 10.000 installazioni e questo, ovviamente, magari non tutti 10.000 forse continuano ancora a utilizzarla sappiamo bene che le app si provano, si utilizzano però il flusso continuo di installazione mi fa pensare che ci siano molte, molte persone che continuano ad apprezzarci ora, quello che stiamo facendo dopo questi 10 mesi di test anche sul campo perché è stata rilasciata la prima versione tutti questi commenti fantastici sono sulla prima versione noi siamo pronti per rilasciare due cose molto importanti la seconda versione dell'app e il visual trader che è sincronizzato con l'app cosa vuol dire sincronizzato? oggi come oggi anche le pubblicità dei vari produttori di software parlano sempre di cloud il mio prodotto è nel cloud parliamoci nel cloud le tue cose stanno nel cloud cosa vuol dire? vuol dire che quando io prendo un software di analisi tecnica ad esempio come visual trader o qualsiasi altro della concorrenza fino a oggi quello che io facevo rimaneva solo nel mio computer quindi quando spegnevo il mio pc ahimè non avevo più accesso a studi, analisi tecnica, alert, news invece queste applicazioni app e visual trader utilizzano il cloud Traderlink per condividere e sincronizzare in automatico le informazioni per cui quello che faccio con il visual trader cloud lo ritrovo, ne posso usufruire con la app e viceversa posso impostare degli alert, degli allarmi spengo tutto, vado in giro e mi trovo poi diciamo queste che state vedendo intanto sotto sono alcuni dei box informativi che trovate nell'app è un'app incredibilmente ricca di informazioni, di news di informazioni sugli eventi, di analisi, di video didattici e anche abbiamo accordi con i principali e più noti trader e relatori italiani per cui abbiamo qui rubriche come in primo piano ad esempio troverete i beniamini, quelli più da Davide Biocchi con cui tra l'altro abbiamo anche dei progetti anche particolari altri trader che scrivono per noi pezzi per la clientela diretta poi qui vedete altre rubriche, anzi vi invito anche a scaricare la app così avete modo di andare avanti questa è una sezione di borsa tra l'altro curiamo in maniera molto attenta la borsa italiana ma grazie al supporto di diretta tra pochissimo saremo in grado di rilasciare anche le quotazioni differite e poi anche in tempo reale per il mercato USA tenete presente clienti diretta voi avete sempre accesso implicito ai dati quindi quando parlo di quotazioni differite mi riferisco a chi non è cliente diretta questo è il mercato italiano che viene sviluppato in vario modo anche con mappe che sono molto divertenti queste mappe di mercato anche su un mappe gli danno presto l'idea di come evolve il mercato allora una sezione di analisi interattiva e di paper trading dove il trading è il simulatore di trading voi sapete che si consiglia sempre di fare molta pratica col simulatore prima di andare veramente a fare trading poi magari non è detto che quello che si riesce a fare le performance incredibili nel simulatore vengano magari riprodotte anche sulla borsa magari però è un ottimo sistema per farsi le ossa la sezione di traderpedia che è la più grande ciclopedia online perché tutti i materiali che trovate dentro l'app articoli, news, analisi sono cross referenziati quindi trovate tutte le parole particolari in fondo che potreste magari non conoscere con un semplice clicco vi si apre una pagina traderpedia che vi spiega il simulatore del termine poi abbiamo raccomandazioni, dividendi ecco non sapete dove trovare dividendi perfetto nell'app di trading c'è tutto lo storico dei dividendi passati, presenti e futuri se dichiarati ovviamente non l'abbiamo ancora inventato perfetto quando andiamo a aprire un grafico ad esempio questo è un elenco dei preferiti con una serie di segnalazioni provenienti dalle varie società di rating raccogliamo questi rating e possono essere visti in marco a sinistro oppure con un clic possono essere proiettati ad esempio il clic su Enel ha provocato qui la comparsa di questa freccia di questo punto che dice dove in quale giorno è stato emesso questa raccomandazione by in questo caso andiamo avanti oppure sempre nella colonna di sinistra possiamo avere appunto sul titolo che stiamo guardando sia le news che i contenuti relativi oppure possiamo avere facile accesso a tutti i contenuti dei nostri relatori visualizzandoli sia in spalla oppure in un'app comodi però un lettore assolutamente molto comodo altra cosa molto interessante è quando apriamo un grafico questi piccoli box che hanno dei simboli che fa riferimento contenuti diversi possono essere pattern candlestick rilevati segnali dividendi oppure come in questo caso delle notizie cliccando si ha subito accesso alla notizia vediamo alcune cose che abbiamo aggiunto recentemente queste sono che in visual trader con un nome improbabile sono chiamate le linee blu stiamo ancora cercando un nome magari facciamo una gara tra chi vuole darci un nome più intelligente di questo a parte essere linee a parte essere blu diciamo non hanno nulla a che fare con il loro scopo cioè questi sono accumuli di volume al livello di prezzo in cui si sono svolti quindi ovviamente uno struttore di questo tipo rende piuttosto evidente che quella fascia di prezzo è una fascia di prezzo che ha raccolto in questo grafico un forte numero di contrattazioni e quindi è probabile è possibile che si presenti come livello di resistenza e supporto quando il prezzo ripassa da quelle parti quindi questi sono attivabili nell'app i vari livelli di pivot point che molti utilizzano abitualmente e anche delle modalità di visualizzazione comodo per i pigri come me ad esempio io sono un cassettista non sono un cliente che fa tantissime operazioni il mio problema giuro è che non mi ricordo mai in quale giorno ho comprato un titolo e a quanto l'ho comprato non so se anche voi avete questo problema ma io non lo specifico evidentemente uno può impostare degli alert sull'app che vi ricordo essendo agganciato al cloud gli alert che metto nell'app o nel visual trader non sono localizzati dentro visual trader o dentro l'app vengono appoggiati al server quindi io prendo un allarme lo sposto lo imposto spengo il mio computer vado in vacanza quando è il momento allo scattare dell'allarme ovviamente ricevo un messaggio push sul telefonino che mi avvisa che è scattato il mio alert in quel caso ad esempio io normalmente non sto a farmi problemi quando è scatta l'alert apro un qualsiasi tool di trading ad esempio uno che potrebbe essere venire comodo è questo prodotto qui ovviamente che molti di voi ovviamente usate tutti i giorni perché abbiamo l'integrazione molto semplice molto bella con il tasto del rediretto quindi un attimo sul telefonino sul mobile ricevere il messaggio di alert e poi provvedere a passare da un'app all'altra per fare acquisto oppure dall'acquisto per fare analisi tecnica e via dicendo molto semplice continuando abbiamo aggiunto in versione una tool bar di accesso veloce alle funzionalità in modo che sia molto facile passare da un ambiente all'altro e da un argomento all'altro abbiamo questo tool qui è un'invenzione nostra è una barra di strumenti circolare per cui occupa il minore spazio possibile e avete tutti gli strumenti standard di un programma di analisi tecnica fibonacci tracciamenti oggetti testo trend in uno spazio veramente microbico e con questo tool ovviamente è possibile anche prendere misurazione sul grafico fare a parte degli oscillatori indicatori le solite cose e poi tutte le nostre le nostre consuete analisi tecniche trendline supporti resistenze che vi ricordo vengono appoggiati nel cloud e vengono condivisi tra vari telefonini vari oggetti se avete uno smartphone un tablet o un visual trader vi trovate sempre i vostri studi a portata di mano ecco sotto come vi dicevo ci sono quei box che vanno a indicare che il server app quando viene tirato fuori fa comparire del titolo la barra del news notizie contenuti le stesse che vedevate sull'app quindi improvvisamente i due mondi si aprono e si agganzano un lato il solito discorso anche da vt posso aprirmi e guardarmi le mie news voglio chiaramente vt è un ambiente multifinestra quindi a differenza di un telefonino è molto più pratico ovviamente lavorare su un vt io ad esempio preferisco lavorare su vt mettere trendline studio allarmi chiudere e poi usare il mobile come finestra per veloce risposta alle relazioni del mercato cosa che soprattutto in questi chiari di luna diciamo può essere piuttosto facile e utile niente contenuti informativi di vario tipo sempre mappe spread questo è uno questo caso spread si sta dando soddisfazione ci è stato chiesto anche da istituzionali siamo diventati degli autorizzati e noti calcolatori di spread sul sito traven questo qui fa 2 milioni di pagine al mese questo gadget è una roba incredibile non so ce lo chiedono c'è anche società grossi si date il vostro che è calcolato meglio degli altri ah bene pensavo che fosse una banale andiamo avanti qui abbiamo il simulatore che trovate dentro soprattutto nell'iPad è molto bello il simulatore e permette appunto di passare del tempo invece di giocare a pacman non esiste più ho una certa età comunque sono un qualsiasi gioco di una volta secondo me è molto più divertente giocare col simulatore in questo caso la successiva il titolo è nascosto perché posso anche avviare un titolo che non viene dichiarato al sistema faccio tutte le mie compro, vendo analisi tecniche aggiungo faccio training e alla fine mi viene rivelato qual è il titolo su cui la mia operazione qui passiamo velocemente in rassegna alcuni moduli alcuni modelli grafici che sono presenti nell'app alcuni sono già presenti altri li hanno aggiunti i ragazzi i miei sviluppatori per fare qualche qualche prova per fare della grande flessibilità e configurabilità a volte certi modelli anche drammatici questo mi sembra un po' schizofrenico però va bene torniamo la musica si potrebbe essere interessante esatto esatto torniamo magari su un modello un po' più pulito questo è quello che preferisco io ok va bene e tutti questi ripeto sono condivisi tutti i modelli tra un paio di mesi vi consegneremo anche la versione Android perché c'è una forte richiesta anche di questo di versione Android e quindi avremo una copertura totale da Windows Mobile Android iPad iPhone e Visual Trader sincronizzato questo mese iniziamo i beta test del Visual Trader Cloud quindi chi vuole darci una mano ed è ben volentieri perché è il momento di trovare il prodotto io direi che ho finito cioè questo è quello che volevo farvi vedere è soltanto una piccola anticipazione grazie soprattutto a quelli di voi che ci aiutano in queste fasi di messe a punto ma io volevo fare anche una domanda per dare un'idea da quant'è che state lavorando avete lavorato questo allora questo qui è stato rilasciato da un anno abbiamo lavorato per più di due anni prima e in quest'anno abbiamo ovviamente lavorato per fare la versione che sta per uscire adesso solo sull'app sono più di tre anni di lavoro solo sull'app e Visual Trader Cloud è un altro un altro annetto in questo modo diciamo che questo Visual Trader che rilasciamo adesso sarà l'ultimo Visual Trader 5 che vedrete perché poi il prossimo Visual Trader 6 sarà il famoso Visual Trader 6 di cui si vociferava già da da tanto tempo e quello è nativo per dispositivi Windows 8 Windows Mobile Touch che richiedono una interfaccia diversa perché ovviamente si deve prestare a essere usato con le dita sullo schermo del portatile quindi sono anni di lavoro indubbiamente non messi insieme a questa cosa però tutti questi anni di lavoro non possono dare il migliore frutto se senza l'aiuto dei beta tester e devo dire che su questo la clientela soprattutto diretta ha sempre fornito tante 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 persone che hanno avuto voglia di darci una mano una grossa mano a mettere a punto l'eldesk che è ovviamente però infatti noi abbiamo un sistema di raccolta di informazioni che va dall'eldesk diretta all'eldesk nostro e alla rete di beta tester che ovviamente ci aiutano in questo ultimissima cosa che segnalo ma adesso questo è un po' prematuro ma stiamo provando per quelli che sono appassionati di training system stiamo provando sul server Travellink un motore che fa girare i vostri trading system scritti da voi acquistati non importa sul nostro server per cui uno si scrive un trading system lo prova dentro visual trader fa tutto il debug fa quello che deve fare poi lo carica sul server spegne il computer va al mare e attende fiduciosi messaggi diciamo sul telefonino io ho finito grazie per il tempo che mi avete consesso grazie allora io faccio una breve premessa appunto come diceva il nostro presidente noi facciamo solo trading online quindi abbiamo una particolare attenzione a quello che serve al trader e a migliorarlo di continuo faccio l'esempio migliore abbiamo fatto la piattaforma Darwin sta cominciando a diventare rilevante preeminente perché noi abbiamo le statistiche per strumento utilizzato in tempo reale quindi vediamo che il flashbook rimane ancora forse la più utilizzata quella nativa però c'è anche il flashbook dentro Darwin e sta cominciando quasi fra poco a superare le piattaforme più tradizionali diciamo che le performance sono molto utilizzabili di Darwin è molto migliorata ma noi stiamo pensando a una prossima release stiamo lavorando in cui ad esempio la qualità del movimento grafico quindi le finestre che si aprono che si chiudono che si sovrappongono si è migliorata molto se è una cosa che si nota però non cambia apparentemente il sistema però poi uno lo sente e poco contro la che stiamo facendo è per passare per l'ordine nostro abbastanza veloce ritenuto anche che arrivi in borsa molto in fretta abbiamo dei ottimi collegamenti con la borsa però c'era un punto di importante miglioramento non potevamo fare il tutto subito passaggio web socket che vuol dire che il push tra cliente nostro sistema e noi avviene con una tecnologia più diretta e questo ci dovrebbe dare secondo le prime misurazioni porta i tempi erano già molto stretti per cui a volte non si vede tranne quando c'è il ricarico totale però potrebbe ridurre di 5-10 volte il tempo di turnaround di arrivo anche dell'ordine che non è trascurabile penso si noti un po' stiamo parlando di un decimo di secondo però intanto è un miglioramento questi sono tutti i lavori che continuiamo a fare in aggiunta all'aggiunta di nuovi mercati di nuove possibilità di far trading a volte sono miglioramenti nel modo di fare le stop loss cioè potenziamenti delle opzioni non è che siamo per fare tutto qualsiasi cosa prima di fine anno dovremmo anche permettere una prima operatività su un campo che non avevamo mai voluto affrontare perché pone dei problemi che se uno li sa risolvere bene è un conto ma dopo anni siamo riusciti a convincere l'ingegner sub sì no ma era previsto per carità daremo la possibilità a chi proprio ci tiene di operare su un Lemib Option Lemib Option che sono le più liquide delle opzioni trattate della borsa italiana ovviamente solo in acquisto che vuol dire che se lo vendi vuol dire devi averlo perché il mestiere comprare vendere le opzioni sono due cose completamente diverse cioè come comprare un'assicurazione o fare l'assicuratore sono due mestieri che richiedono dei è un piccolo passo per diretta è un grande passo per i trader no no sto dicendo ce l'avremo per cui se uno vuole può fare fare altre cose ecco poi le iniziative che ci portano di tipo anche loro innovative se vogliamo come possono essere le università del trading che sono simpatiche ci permettono di conoscere tanta gente anche delle università e quindi a volte indirettamente ci aiutano a inquadrare meglio quello che è il nostro mestiere come in altri paesi vedono che questo qui più di metà delle squadre quest'anno italiana noi siamo in contatto discutiamo li invitiamo e siamo molto lieti di vedere i riscontri perché a volte ci sono delle cose che uno non deve essere provinciale si diventa sempre più rischioso avere un'ottica legata a quello che c'è sotto sotto il naso e adesso siamo arrivati al momento in cui magari vediamo delle slide così presentiamo bene la nostra meglio la nostra visione fino all'ultima cosa che è quella più importante allora noi storicamente come dico siamo stati i primi in Italia e tra le primissime nel mondo anzi io devo dire ho il sospetto che su un certo tipo di cosa noi siamo stati addirittura i primi nel mondo che sembrerà strano i soliti penso sempre in America però nel 96 marzo 96 noi eravamo già un sistema stavamo cominciando a pensarci dal 93 94 anzi realizzarlo nel 94 perché non sono cose che si fanno non esistevano quindi devi anche inventare il modo di farle ecco in America è vero c'erano dei broker che già negli anni 80 visto che avevano delle bellissime reti con più serve piuttosto che America online prima di internet funzionavano molto bene c'erano dei broker che prendevano gli ordini via la rete diciamo quella rete ma non erano come poi è diventato il trading online invece noi eravamo dal marzo del 96 già cioè non erano nate nell'idea che io dal mio computer vado sul mercato questo lo potevano fare eventualmente lo provavano ma lo potevano fare neanche i broker stessi in certa misura perché i mercati automatizzati sono il primo è stato Londra è stato il big bang del mercato di Londra poi sono arrivati gli altri e nel 93 mi pare è stata la borsa italiana a farlo in America c'erano le grida ancora adesso ci sono andate a vedere delle sezioni che continuano a fare le grida allora il broker poi poteva eseguire lui perché magari era uno specialista di quel titolo o telefonava l'amico e ti dava l'esecuzione magari andava anche bene ma non era il trading online noi nel marzo nel 95 96 poi il Nasdaq fece un piccola sezione per i privati c'erano state le lamentele su un blocco che poteva essere automatizzata e Datec che era una piccola broker di New York mi pare lo utilizzò ma non per dare ai suoi clienti la possibilità di intervenire online questo dico che forse siamo stati primi lo fece perché si era messo dei bravi negoziatori privati che fingevano di lavorare per conto dei privati per poter essere giustificati se questi americani le normative si rispettano la lettera sempre molto bene ai privati davano un interesse sui soldi che qualcuno che viene da fuori però intanto comincia già a essere un business dove c'è qualcuno che ti dice guarda qui deve funzionare e poi nel 97 98 e questo è lo schema che poi è diventato canonico non usavamo internet ma le linee telefoniche poi nel a fine 98 siamo passati su internet e adesso lo schema è più o meno diffuso in tutto il mondo perché è semplicemente il più logico nel 99 siamo stati anche leader perché siamo stati i primi da maggio 99 a offrire il trading mobile e questo è proprio vero perché il secondo è arrivato in 5-6 mesi da nel maggio 99 abbiamo offerto il trading mobile come un prodotto utilizzando l'uscita del primo del primo telefonino Nokia Nokia Navigator che aveva un buonissimo mini browser e noi abbiamo fatto un sito esattamente delle dimensioni e della leggerezza perché poi stiamo andando mi pare a 1200 dove sei dipende da dove si trovava poteva andare ma funzionava anche a 1200 diciamo come modalità perché c'erano pochissimi bytes delle pagine da trasmettere poi c'è stato tutto in evoluzione nel 2001 abbiamo rilasciato abbiamo cominciato a lavorare sulle agende sperando che arrivasse le agende appena sperando che arrivasse confidando anche era certo che arrivasse la connettività anche telefonica barra internet e nel 94 abbiamo rilasciato il pen trader che è la prima stazione mobile veramente di qualità non tanto diversa dal pc tranne che non c'erano tanti wifi quindi aveva dei lag dovuti alla rete ma poi con il wifi e poi alla fine adesso abbiamo il touch trader che io credo sia ancora la piattaforma leader tra quelle per operare remotamente sui mercati secondo me se uno parte la limitazione che di solito nel video ti sta se usi il flashbook un titolo solo non è diverso in wifi che avere una workstation con tutti i giga di questo mondo poi adesso siamo un altro passaggio di per sé è una tecnologia che non l'abbiamo inventata noi per carità però diventa un primo nel settore credo di nuovo a scala mondiale anche perché tipicamente le società finanziarie si utilizzano molto si prodigono molto nel modo di piazzare i fondi o di crearti delle strane cose prego e dopo tante altre cose che non dico che sono minori stiamo sul punto di rilasciare direct chat l'abbiamo chiamata così che è un sistema di video chat multipla e ho chiamato trading collaborativo qui magari il termine social trading ci dice ma è una roba molto più vasta e anche un po' fumosa abbiamo notato che alcuni dei nostri clienti tendono a fare trading in compagnia abbiamo notato che c'è un forte sui forum in particolare di finanza come finanza online si cerca di condividere scaricare magari un po' anche le tensioni perché quando uno lavora con i soldi c'è una maggiore tensione quindi essere in compagnia da molti apprezzato e che permette permetterà adesso vediamo come di lavorare insieme che vuol dire dare i giudizi scambiarsi idee magari anche lamentarsi questo anche è un miglioramento della situazione ma in maniera video chat vuol dire io parlo e vedo ti vedo poi faremo anche la versione dove le persone particolarmente sociali possono mettere l'avatar magari si scambia l'avatar quello con la faccia scura quello sorridente così c'è la privacy ma al momento è semplicemente sfruttiamo il fatto che c'è la telecamerina e ha molte cose in comune con Skype questo come modello tranne che ci risulta che sia un po' migliore come prestazione poi abbiamo consumato un tempo lungo ma grazie molto lungo grazie grazie ai nostri partner di Traderlink abbiamo imparato che loro hanno imparato tante cose sulle video chat il progetto è stato poi a un certo punto fatto in due fasi prima abbiamo visto come un sistema messo sulla logica e poi abbiamo avuto un ripensamento di cui poi ci parlerà dal Politecnico un signore che ha partecipato perché non eravamo soddisfatti delle qualità sia di timing cioè di responsività fare una cosa che è già di Skype non è qualificante e poi ci sono grossi problemi perché abbiamo preso un approccio che poi lo vedremo che si chiama peer to peer che è molto elegante non crea problemi di riservatezza e nemmeno di banda perché poi chiaramente noi abbiamo tipicamente 2000 clienti collegati ai nostri server in tempo reale durante la giornata magari arriva anche 2003 nei momenti terribili ce ne dovrebbero non so quanti 1 gigabyte 2 gigabyte di banda poi per quanto uno comprima di più non si può fare oppure si blocca tutto invece qui peer to peer vuol dire che ognuno se c'è la banda parla con qualcunque altro prego ecco vediamo direttamente chat quali sono le caratteristiche video chat video chat ad alte prestazioni questo ho detto poi dico lo dirò scritto dopo abbiamo scoperto grazie anche al Politecnico hanno fatto una specie di analisi su scala mondiale dei migliori sistemi a pagamento e in open source disponibili questo li avevamo e l'hanno fatto un buon da maneggiare ho detto me lo confermo qui l'ingegnere Antonioli di traveling perché era una specie di malloppone dove tu sapendo dove entri dove esci però devi saperlo e non c'è la documentazione o non è abbastanza chiara adesso sta un po' migliorando e però ha tutto molte funzioni che noi non abbiamo ancora attivate tipo la chat per scrivere e altre che poi magari utilizzeremo o troveremo delle alternative più efficaci poi basso uso di banda alta qualità del video con poca banda questo è essenziale specialmente perché se uno già sta usando la banda per ricevere le quotazioni e per mandare gli ordini e poi si vede bene però l'ordine non parte forse non è contento poi c'è un altro problema perché il peer-to-peer che è lo schema dove ognuno anziché passare dai server a diretta cosa che ci piace perché così nessuno ci verrà a chiedere di fare i controllori di cosa si dice alla gente il peer-to-peer è percepito da molti sistemi specie reti aziendali come una specie di hackeraggio e quindi la rete aziendale lo blocca dice io dall'altra parte se c'è un server magari ti faccio passare ma se c'è un client può essere un hacker e quindi avevamo il fatto che la prima realizzazione aveva dei problemi di connessività certe un'alta percentuale di casi poi magari anche adesso qualcuno può capitare no andiamo indietro il peer-to-peer rende difficile le intercondizioni lo sa benissimo Skype ma ce ne sono anche altri che utilizza dei meccanismi dove un pc Skype magari che è enorme viene preso anche in saputa dello stesso che è data l'autorizzazione che lo possiede per fare da ponte noi questo non credo che lo faremo al momento però prevediamo che tra i quattro partecipanti magari può capitare che uno diventa fa finta di essere il server in certe situazioni in altre non c'è bisogno poi incriptazione vabbè quello è banale però se uno deve dare questo mi lasci dire ai tedeschi loro viverebbero subito i capelli dritti dicendo se non è incriptata tutti possono vederlo poi ci pensa la CIO eventualmente poi la modalità standard è peer to peer fa il backup opzionale adesso noi abbiamo usiamo anche il server directa ma questo va bene per le prove o per un limitato numero di casi è molto già funzionante ma ancora abbiamo preferito evitarlo in questo caso ad peer to peer puro tra l'altro si vede nel video se tu sei in peer to peer puro o se sei tramite server c'è un piccolo contrassegno poi usiamo come dico le open source di gizzi.org che come dico non sono facilissime da usare anche se adesso sta migliorando un po' la situazione perché le stanno modularizzando un po' alla volta e abbiamo fatto l'interfaccia in java perché vogliamo ovviamente che questo sistema si inserisca nella nostra piattaforma darwin e quindi in maniera nativa in maniera seamless anche se essendo java in realtà è utilizzabile da chiunque abbia un server con java e di fatti poi vedremo magari c'è qualche sito di finanza che ci chiederà di poter dare la video chat ai suoi partecipanti i suoi clienti vedremo se si fanno una bella pubblicità facciamo uno scambio messi poi abbiamo tanti sviluppi futuri il più impegnativo sarebbe di passare in html5 perché a questo punto diventerebbe disponibile anche sugli smartphone persino su android magari però anche lì dobbiamo stare attenti perché se lo uso dentro un browser c'è una netta perdita di performance visiva dico solo anche i bordi che su un dispositivo piccolo sono importanti però ci sono del modo di fare un html5 senza bordi fuori dal browser e poi lo vedremo comunque è un grosso progetto non è una cosa che si fa in due mesi andiamo a vedere un attimo la logica allora questo è il peer to peer si presenta con questa logica ci sono 4 client fatto pc che si collegano su internet con dei collegamenti one to one è un bel sistema molto usato anche dagli hacker da quelli che si scambiano i film copiati per questo a volte viene bloccato da certe reti però ha il vantaggio che tu hai la banda e ti usi la tua banda non quella è vantaggio la riservatezza svantaggio molte rese direttie dico aziendali poi di qualsiasi organizzazione che si fanno queste condizioni poi è possibile acchiaraggio e lo blocca ecco quest'altro sistema è molto utilizzato da chi vende video chat perché dovendole vendere dice tu passi dal mio server io quindi ti posso mettere il ticket ti faccio pagare la connessione ed è molto più facile è più facile diciamo da realizzare perché tutti mandano il loro video audio al server il server poi le rimanda indietro a ciascuno o a quello che meno lui credo ed è è un sistema che è molto più facile da diffondere a tutti i tipi di utilizzatori che però prima di tutto ha uno svantaggio dal nostro punto di vista è che noi abbiamo anche ottime bande siamo brittistere comasette o milanese ma dover comprare dei gigabit solo per far fare video chat forse non era una scelta architettonica giusta poi adesso nel clima che va verso il totalitarismo che stiamo vedendo da tutte le parti ci sarà anche poi qualche entità di controllo che ci dice che quel tipo lì ha detto una cosa brutta e passa da voi voi siete complici nell'aggiottaggio e invece abbiamo la terza alternativa ed è che uno dei quattro ad esempio noi non pensiamo di usare al momento il metodo Skype per cui andiamo a prenderlo a caso che abbia una enorme gamma di reti collegate da Skype ma uno dei quattro potrebbe diventare il server e quindi per mettere magari il 3 è dietro una rete aziendale non potrebbe funzionare nel schema 1 ma nello schema in quel caso lì mettiamo che il 2 diventa server e tutto funziona come prima tranne che la videoconferenza funziona questo vi dà un'idea che non è un sistema così banale come guardando da fuori potrebbe sembrare e che richiede anche delle messe a punto ora per questo noi mettiamo se avete visto nel diciamo venite a fare i beta tester perché abbiamo bisogno nelle prossime settimane un mese o due adesso vedremo quanto ci vuole di ampliare la gamma delle prove per cercare di arrivare una elevata vogliamo essere meglio di skype questo è il nostro benchmark mediamente adesso non sono nella connettività ma senz'altro nel video audio e l'unico modo di fare debug per trovare cose nuove perché l'internet non è tutta fatta nello stesso modo c'è un mese di complessità e di cose su 3 stiamo ancora lavorando come qui dice ci saranno delle messe a punto e poi ci sarà anche un mantenimento poi posso anche aggiungere che questa video chat i primi a utilizzarla saranno i trader di directa ma vedremo di permettere di usarla non solo tra trader mentre sono collegati con il nostro server ma lo potranno usare anche per tante altre cose poi magari vedremo anche ai non trader di directa se sarà come spero una cosa che valla assolutamente la pena perché cureremo in particolare la facilità di entrata ancora meglio di skype sembra che il nostro benchmark e in ogni caso è totalmente gratuito perché penso che è un progetto una cosa che possa fare piacere allora adesso io direi che potremmo anziché facciamo vedere la cosa in termini reali e poi magari si avanza poi un po' di tempo se ci sono delle domande oppure se anche mentre è collegato qualcuno sì allora questo è come compare in maniera per evitare gli altri diciamo chiamiamo prima chiamiamo la diretta di referente sì che è il nostro capo progetto tecnico che ordini le varie istanze e qui abbiamo lì le relazioni e poi presentare magari cosa vuol dire sistemare video chat sì gli abbiamo detto Ferrante adesso sono gli altri che devono entrare ecco qua siamo Ferrante ecco lì dal mio ufficio di diretta vedo dietro la strega che balla i dvd di carosello e così via allora come vedete la qualità è più che sufficiente per intendersi capirsi poi c'è anche la versione full screen che adesso non utilizziamo per cui normalmente devo occupare una parte dello schermo per il trader perché dall'altra parte lui vede meno che abbia 23 monitor lui deve vedere come sta andando nel mercato adesso facciamo entrare la terza che ci dirà gli alterini la signora Elisa Morri che ci parla ci parla da Rimini o parla da Rimini quindi siamo ancora nella comunità europea buongiorno buongiorno allora prima di tutto si facciamo vedere si vede anche prima che in alto a destra indica quel simbolino legati via server ecco qui abbiamo il nostro oh abbiamo un ingegnere di Torino l'occasione anche se non è in video chat qui c'è l'ingegnere Antonioli magari gli vorrei chiedere qualche impressione da sviluppatore ecco il progetto è stato interessante perché abbiamo è una è un ambito nuovo almeno per quello che erano le mie esperienze quindi ed è molto più magari poteva sembrare in un primo istante soprattutto perché sono sistemi in cui non c'è una come in molti altri sistemi ma qua proprio non c'è sono delle situazioni che si incontrano sulla connettività che sono spesso irriproducibili quindi non possiamo mai sapere come l'infrastruttura di rete dell'utente che vuole fare una comunicazione con noi e quindi anche la questione di fare questo peer-to-peer ci ha portato a confrontarci con delle situazioni abbastanza complicate ed è anche per questo che chiediamo come prima diceva l'ingegner Fabri anche un un feedback degli utilizzatori cosa che è avvenuta per ora in modo marginale perché eravamo in in alfa in beta e quindi adesso con con l'utilizzo dei della della diretta chat con gli utenti speriamo di migliorare ancora il sistema e tu una domanda quando lavori su questo dire ti ha sforzato uno o due figli non mi ricordo perché è un pochino che lavori su questo su questo progetto due siamo a due perché poi questi diventano diventano progetti totalizzanti chiaramente nella vita di una persona no veramente diretta ha investito effettivamente una quantità di come diceva il dottore prima di genaro ma ma tempo soprattutto in questo progetto questo è un progetto molto grande grazie magari si può interessare prego prego no volevo voglio dirti che molte dei passi è arrivata anche al 10 e mezzo adesso ma mi sembra interessato grazie grazie sono le voci controllate tipiche della borsa andiamo short andiamo short vado short questo è il tipo di utilizzo che prevediamo sinceramente vedete che il trading quando dico il trading cambia faccia quando lo rilasceremo che non ci vorrà tantissimo poi magari lo miglioriamo ma continuamente quelli che potranno utilizzarlo quelli meno asociali perché poi c'è il trader asociale come c'è un informatico ad esempio tipicamente asociale ecco e quello invece più collaborativo e questo è a quanto noi pensiamo quando ho pensato è un fattore di distinzione molto rilevante della nostra piattaforma rispetto alle altre spero che uno può mettere un'altra video chat però integrata nella piattaforma renderemo possibile agli utenti di rete di crearsi dei cerchi di amicizia per cui diremo quelli che ci autorizzano ovviamente renderemo visibile che c'è l'amico online collegato con directa per cui io magari lo chiamo e mi collego con lui in maniera molto semplice e immediata allora la comodità fa premio sul fatto che io avevo già la tale videoconferenza va bene tutti che vogliono parlare con Biocchi ma adesso non so tanto più di tre a meno che apra canali multipli adesso vediamo questo è un problema per Antonioli per fare dallo stesso IP più cose più di tre normalmente non dovrebbe comunque giusto per dire questo sistema crediamo che possa avere un buon successo anche per altri scopi non solo i nostri clienti daremo la possibilità di usarlo indipendentemente da Darwin ma magari poi lo daremo anche a chi non è cliente e questo e questo è quanto e dove noi pensiamo di poter fare meglio delle altre cose è proprio nella semplicità di utilizzo che poi è il fattore principale perché poi se gli americani tendono a darti la possibilità di fare fine tuning su certe cose che poi non sa neanche cosa sono e invece se funziona basta e basta che lo faccia in fretta ovviamente va bene e no sì probabilmente l'hai fatto non so volevo solo ricordare il programma beta che abbiamo bisogno se ricordi la mail eventualmente oppure no dicevo se vuoi ricordare l'indirizzo email si rendo conto che collegati diciamo a questo evento abbiamo persone anche da internet che non possono quindi essere iniziati nel programma si prego allora la mail è directa punto chat chiocciola directa punto it sta passando in sovraimpressione sotto sotto nei commenti per quelli che sono a casa la vedono poi lo metteremo anche nel sito magari mettiamo la comunicazione a tutti i nostri clienti nella pagina e a tutti i presenti sanno che se vogliono andare al piano di sopra e se gli interessa potranno usare poi le chiameremo noi quando perché dobbiamo essere anche in grado di assorbire tutte queste feedback li chiamiamo noi gli diamo poi le chiavi e poi lo potranno usare come gli pare anche con gente che non è cliente directa basta che abbiamo il browser e java e poi ci dicono funziona non funziona questa è la configurazione eccetera eccetera e poi noi giriamo tutto all'ingegnere Antonio immediatamente basta che non dorma la notte che poi d'altronde è una roba molto borghese insomma ci sono domande? domando se c'è qual domanda ma può darsi di no comunque siamo un po' italiani da questo punto di vista ecco là il signor Berninzani che vede che se poi fa il bravo gli lasciamo anche l'user alla video chat va bene allora io ringrazierei tutti i video chattari e se vanno altre cose mi raccomando quello short su Monte dei Paschi come ingegnere mi raccomando mi raccomando lo short va bene grazie buona giornata buona giornata grazie ciao 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 però non so neanche se non so neanche se molti dei passi datori è ammesso o se ancora di vieto di short non possiamo guadagnare vedete le cose interessanti sono proibite quindi con il prestito si può fare ma non so va bene quindi questo vi da un'idea ripeto questo sviluppo noi ne siamo orgogliosi nonostante i costi insieme perché non ce l'ha nessuno secondo noi nel mondo in quanto il normale industria finanziaria pensa all'utile dei tre mesi ha una visuale che va molti di qui a lì circa 5 cm davanti al naso e devo dire che forse questo è uno dei motivi per cui Directa è stata la prima e adesso continua a sopravvivere a differenza di tanti altri che non gli interessava il trading online se non per guadagnare tubito tutto e poi non si poteva perché il mercato era più piccolo e adesso magari pensano al trading online come una roba secondaria e si scopre ovviamente che si guadagna di più vendendo i fondi per cui poi le tue repi i promotori vendono i fondi col trading online ma non è che ci investi tanto e noi invece abbiamo solo questo per investire quindi non abbiamo dubbi va bene se c'è qualche domanda di nuovo lo chiedo se no non è obbligatorio possiamo anche passare a vedere cosa fa la concorrenza ah si si vi invitiamo di nuovo a passare al nostro stand e lasciare il nominativo per per beta tester per chi lo vuole fare si ma io lo invitiamo non è obbligatorio purtroppo ah si ho già citato diciamo che poi avremo altre altre notizie Darwin 2 che migliorerà molto la fluidità dell'ambiente e poi i websocket che miglioreranno la immediatezza magari non si vede tanto nell'invio diciamo usando Darwin e per chi lo usa finalmente non avremo quella roba della calamita che ne sposti uno e ti si spostano tutti di mezzo millimetro e tu avevi posizionato tutte le tue finestre perfettamente e si spostano quel mezzo millimetro che ti dà fastidio non è che crei problemi ma un paliccio di fastidio e di nervoso te lo fa venire per dare un'idea arrivare a fare una cosa del genere per una piccola azienda come noi solo di costi esterni sono 60 mila euro poi ci sono tutte le cose interne cioè ormai diventa difficile cioè piccoli piccolissimi non possono neanche pensare di mettersi nel business perché o prendono delle piattaforme fatte da altri e a quel punto vendono la commodity e sulla commodity si compete solo col prezzo scendendo o in altre maniere e questo è solo per fare una piccolissima modifica che è utilizzare delle primitive grafiche diverse e ricontrollare però comunque noi al momento siamo più tecnologica abbiamo più diciamo un approccio tecnologico che è meglio quanto pare di quello tipicamente finanziario per usare il linguaggio dei puffi che è meglio il dottor Berlinzani ha una domanda con la video chat era possibile condividere anche il desktop è uno degli sviluppi a cui pensiamo wait a moment ho chiesto scusa con anticipo tra l'altro in sé non è neanche difficile in teoria perché cizzi penso che abbia però siccome fare tante cose si fa casino questo è quello che sfugge non tecnici però purtroppo è così prima vorremmo che funzionasse molto bene la parte video poi la mia idea è di riuscire a creare un ambiente aperto dove anche sviluppatori esterni a cui potranno utilizzare tutto gratuitamente aggiungono furbate e cose però intanto già poterci parlare uno può già dire per dirle i sogni dell'ingegnere Fabri questo parlo delle specifiche del 2004 lui diceva che lui voleva poter giocare a briscola con questa video chat per cui che ci fosse come dire come ci fosse un tavolo sul tavolo lasci lì come ci fosse un tavolo su cui non soltanto lei condivideva il desktop ma un altro per dire tracciava la timeline e un terzo ci scriveva un commento sotto cose che tra l'altro si trovano già sul mercato senza problemi però in un ambiente meglio integrato dal nostro punto di vista con Darwin e dal punto di vista generale di chi non fa trading free e con una certa distribuzione noi pensiamo che il nostro gruppo di clienti sia una meravigliosa base per diffonderlo perché abbiamo appunto circa 2000 clienti che sono online contemporaneamente qui speriamo che crescano e questo già ci vuole un nucleo di cristallizzazione ci permette di partire già lontani dal suolo non è che dobbiamo andare a vendere un progetto e poi dopo arriverà fin dove potrà c'è una domanda c'è una domanda dalla video chat io volevo parlare una domanda affermazione di un possibile utilizzo che stiamo studiando è quello per i live streaming noi facciamo tanta didattica online e appunto un utilizzo è quello di ospitare diversi trader attraverso la video chat e poi mandarli in streaming appunto con video live simile abbiamo già fatto una volta con Valentina nel senso che un ospite come fanno in televisione che vedete la gente in alto incombe tra l'altro anche loro usano internet si vede benissimo perché c'è il ritardo nella risposta di chi sta dall'altra parte sarà una delle possibilità visto che noi siamo utenti ma non lo definirei un punto di eccellenza giusto per informazione oggi pomeriggio nell'evento di borsa italiana sarà utilizzata la direct chat con la psicologa del trading direttamente da diciamo da casa sua da Trieste bene e poi vi dico se voi avete poi delle idee in proprio credo che non c'entrano neanche col trading presto potrebbe essere lo strumento che trovate più conveniente deve essere free questa è la nostra mentalità basta che si chiami direct a punto chat che ci porta una immagine come marketing buono diciamo diciamo che segue quelle altre cose free e con questo facciamo la sintesi che forse non tutti conoscono che sono la di bar cioè gli indici dei principali mercati ricalcolati ricalcolati lo diciamo anche tradelink se vuole inserire ricalcolati da noi perché dato che per esempio già solo avere un indice sul DAX costa un euro al mese per cliente è abbastanza difficile avere gratis gli indici sul DAX però DGR dà le stesse cose esattamente lo stesso cosa con un sistema di regressione multipla per cui diciamo la differenza con l'indice ufficiale di massimo 0,01% quindi sostanzialmente la stessa cosa ed è gratuito e uno si può scaricare questo piccolo tool gratuitamente quindi anche se non è il cliente diretta sia l'indice tedesco sia quello americano sia quello italiano sia quello francese e sia il cambio euro giusto che non sapesse l'americano noi paghiamo dal CME per poter utilizzare distribuire l'indice del standard standard and poor 500 gli deduciamo l'interesse perché poi il future ha la sua cosa e abbiamo anche prima che i mercati aprano un ottimo indicatore del sentiment americano corretto che sarebbe troppo complicato se vuol dire e questo poi con tutto quello che può valere il future prima dell'apertura dei mercati è sempre meglio di niente abbiamo addirittura l'indice americano che si muove quando la borsa è chiusa anche il l'indice si muove quando la borsa è chiusa va bene se non c'è nessun altro o qualcun altro dalla chat che ha domande no va bene vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato speriamo di vedervi anche come utilizzatori di questa direct chat e perché no anche come clienti di direct grazie grazie a tutti grazie Grazie.